Tutto un miglior realizzatore del nostro campionato con quella percentuale da due punti nemmeno da PlayStation, 85,7, nemmeno da PlayStation ben più alto l'altro è Michael Sokowoski, centesima presenza in Serie A una grande aggiunta per il roster sassarese, dall'altra parte non si può non citare Amedeo della Valle, 22 punti a partita con quasi il 50% da 3 Parlando di veterani, parlando di esperienza, abbiamo annunciato poco fa Mirobilan, 18,7 rimbalzi, ma la palla 2 con Alilovic sarà di Ndur che viene alzata in questo momento, si parte la prima palla, è nelle mani di Brescia Altri due lunghi blocco e l'alzata di Bilan per Ndur Gioco cieco di Ivanovic per Ndur Poi un'ottima comunicazione difensiva da parte della Dinamo Che perché è stato un primo attacco un po' ma chi non so da parte della Germania che comunque si è chiuso con i due punti E che due punti, attacca Sokowoski, sbaglia, si lotta a rimbalzo Alla fine ha ragione lui I primi due punti della sua centesima presenza in Serie A Nella tasca la palla per Bilan che poi lascia ancora per Ndur Giocano i due lunghi della Germani Ovviamente qui c'è tutta l'esperienza di Ndur A leggere il gioco, i tempi di taglio Lontano dalla palla, Forbes aspetta l'arrivo di Bibins Che prende il blocco di Aulovic Della Valle Chiude, si va in angolo da Forbes Ci pensa, tre secondi, due contro Ndur Non stop Ndur E poi Decide di Non spingere il contropede Ma di lasciare Della Valle Gli tocca il pallone Benjus Si rimane su questa metà campo Qui ci rivediamo il tocco di Emanthas Benjus Mostra il pallone Dura Ivanovic Piccarol con Bilanesh Forte di Alilovic Dura anche tiro da quella posizione Sbaglia il rimbalzo di Rivers Che però non riesce a correggere Sale Forbes Si muove Benjus Cambio accettato da Bilanesh Sotto c'è Alilovic Contro Ndur Ultimi 5 secondi Uno contro uno Attacca Giro dorsale Del sette passo E tiro Ndur Dice di nuovo E la stoppata Da dietro anche di Rivers Si chiude benissimo La difesa della Germani E fallo Oggs Su Della Valle Ottimo inizio difensivo Di Brescia Qui a livello di comunicazione Aiuti dal lato debole Questo è il pallo Chiaro Il numero 11 Qui prima la stoppata di Ndur E poi da dietro Arriva la mano di Rivers Mentre si torna in campo C'è Un pallo di sfondamento Di Mirobilan Lo rivediamo Eccolo qui Bibins Prende posizione L'ultimo momento utile Un po' far altro che Andarlo per terra Bilan Non riesce a frenare in tempo Gira stretto l'angolo del blocco Fombs che poi torna fuori Piccaro il convention Spalleggia il resto Tiro dal gomito Fombs Sta schiacciata la difesa Allora Si mette subito in moto In attivo Di Rochester Attacca la Germania Con Imanovic Che lascia ancora Per Ndur Che va su Tutto facile Per Maurice Ndur Subito grande avvio Per lui I sei punti Della Germania Portano la sua firma Bibins Ricomincia da Benji Sui ultimi dieci secondi Cambio accettato da Rivers Sokowoski non attacca Alilovic Per Bimis Che parte In linea di fondo Torna fuori Legge tutto Della valle Fallo di Sokowoski Gli applausi Del pubblico Del pallaleonessa Per la lettura Difensiva Della valle Che rivediamo qui Poi la mano Di Sokowoski Per fermare Tentativo di transizione Il playmaker Avversario Ora prende la palla Bilan L'anticipo di Alilovic Che poi in salto Trova Bibins Tre contro tre Allora Numero uno Decide di ricominciare A ragionare Vediamo se si rinnova Il duello Prima l'ha vinto Alilovic Però c'è Della valle Che anche qui Riesce a fare un'ottima Cosa difensivamente E poi finta il tiro Alilovic Alza le braccia Gli tocca solo Il pallone Va su Subisce fallo Saranno due tiri liberi Per Amedeo Della valle Non è proprio convinto Michele Sokowoski Che va a chiedere Subito spiegazione Molto bravo Qui Della valle Alilovic Non sente più Il contatto Con il numero otto Poi da terra Benjus Commette fallo Dunque Primo viaggio E lunetta Di questa partita Per Amedeo Della valle Che segna il primo Buono anche Secondo per Della valle Ora Pimpis Gestire il processo Offensivo Con la pressione Di Vardic Hobbs è dimenticato Da tutti Non si accorge Forse di essere Non se l'aspettava Di essere così tanto solo Ma c'è il vantaggio Di Benjus Contro Della valle Si chiude Bilan Che lascia Poi libero Alilovic Sbaglia Indur Dall'altra parte Prende posizione Bibbins Questa volta Non c'è sfondamento Sbaglia Indur Allora si corre Dall'altra parte Si alza il ritmo E allora Quando si alza il ritmo Prova a mettersi in partita Benjus Sbaglia la tripla C'è rimbalzo Hobbs ci pensa Non tira Ora si può ritornare lì Di là Di la mia metà strada Eccolo qua Il vantaggio Di Alilovic Fallo Obbligato di Mirelem Alilovic Di Ivanovic Fuori Nikola Ivanovic Debuto In questa partita Come ha detto Per uno degli ex Chris Dow Isce dalla rimessa Sokowoski Due blocchi Per liberare Bibbins Si mette in visione Dylan per negare Una tripla facile Bibbins In salto Passaggio molto complicato Rivers Ci mette la mano 4 secondi Virgola 5 Per chiudere Questo possesso Riceve Fombs Contro Hondur Due secondi Un secondo Palla schiacciata Per terra Complicata Alla fine Arriva una palla persa La rabbia Di Linnat Markovic Una rimessa Comunque È stata pensata In modo completamente Diverso Della valle Sen step Però E con lui Fombs Lo insegue Sul blocco Allora Si lascia Per Miro Bilan Che cambia La mano Del Lei ha 3 verso 2 per Miro Bilan E primo Time out Della partita Qualche cambio Perché vedete Che c'è Nei trenfo Assieme a D'Alessandro Cappelletti Per la Dinamo Sassari Rimangono Fombs Sokowoski E Bengius Dall'altra parte Ancora Non ha fatto Cambi Coach Peppe Poeta Soltanto Parte di Bilan Alla fine La palla Arriva Comunque Sono altri due punti Che Brescia Costruisce Sull'assist Bilan Ndur Con quest'ultimo A chiudere La quota 8 Sokowoski Riceve Mette a posto I piedi Prima tripla Della sua serata È sbagliata Show forte Di Bengius Che poi Scivola Allora Vantaggio L'attacco Di Brescia Se lo prende Rivers Il close out Il ritardo Di Sokowoski Alla fine Cappelletti Ributta fuori Un po' Complicato Bengius Fobbs Rennfro Poi attacca Fobbs Assorbe il contatto Scucchiaiata Di mano sinistra Due Più Eventuale Uno Brian Fobbs La sua mano sinistra Fallo di Bilan Il primo Della sua partita Fuori Maurice Ndur Debuto In questa partita Per Jason Barnell Lui Che ha vestito La maglia Della Dinamo In due stagioni Consecutive 20-21 2021-2022 Compagno di squadra Di Mirabila Nasassari Rimane in campo Due falli Numero due Della Germania Mentre Fobbs Segna L'aggiuntivo Doppia uscita Doppia uscita C'è Rivers Che riceve Lotta tra Renzo E Bilan Che è proprio Renzo Per fermare Bilan Arriva a prenderla Della Valle 7 secondi La stoppata Di Fobbs Attacca Poi Lui Gli vola Addosso Gli frana Addosso Per meglio dire Jason Bernen Che commette il primo fallo Della sua partita Va a cercare il contatto Fobbs Rallentando anche il Tempo del terzo tempo Fuori Bilan E debutto Per Joseph Mobio Mentre vedete Markovic Parla con Benjus e Renfro Probabilmente per Sistemare qualcosa Difensivamente Quello che fa Brescia Attaccando Tanto Con i due lunghi Mentre Ha segnato il primo libero Fobbs 2 su 2 Lui che tira Con l'83% Fino a questo punto Del campionato E' già quota 7 Dau Capelletti Anticipo Pagli Pagli Della Valle Qui 2 contro 1 Attenzione Da dietro Chiude La schiacciata E Mantas Benjus Stava arrivando Velocissimo Mobio Ed ora Il time out Lo chiede Peppe Poeta Persele di 7 a 0 Di Sassari Che accenna Piccola pressione Si entra nel gioco A 16 secondi Alla fine De 24 Benjus Defende contro Bernal Che lo attacca Spallata E poi Stoppata Dini Trenfro Grandissimo atleta Renfro E lo dimostra Anche in questo caso Arrivando dal lato Debole Stoppando Bernal Che ha rischiato Il fallo di sfondamento Che ha rischiato Il fallo di sfondamento Premessa che viene definita A Trignino Per Brescia Sale Della Valle Si chiude Pick and roll Con Mobio Che si prende Il tiro Ottima esecuzione Della Germani Due punti Per Mobio Sale Cappelletti In seguito Da Dauer Il fine del Per liberare Fobs Che lascia Per Renfro Che bella giocata Fobs Renfro Due Dopo la grande Stoppata Dall'altra parte Per il numero 35 Attacca Dau Prende posizione Renfro Non c'è sfondamento Si lotta a rimbalzo Alla fine Lo vince Sokowoski Recupera Mobio Che da dietro Gli tocca il pallone Cappelletti Attacca Fuori Fobs Ragiona C'è Renfro Contro Della Valle L'ho visto Però si va Dall'altro lato Da Cappelletti Contro Mobio Timi 5 secondi Prende posizione Benjus Contro Rivers 3 secondi Va al tiro Buttandosi Allì dietro Il capitano Della Dinamo Errore Sono riusciti A sfruttare Quel vantaggio Di Renfro Contro Della Valle Dottore di coach Markovic E' arrivato Un tiro Complicato E sbagliato Da Benjus Parlando di tiri Complicati Questo di Bernel Sicuramente Entra nella lista Zingarata Sotto canestre Poi Porta di gancio Cielo E tocca Malapena Il ferro Sale Fobs Cappelletti Palla Complicata Cercare Renfro La deduzione Di piedi Da parte Di rivers E poi Renfro Che Facendo Il compagno Tira Tira E questo Il tiro Di Bernel Torna Ivanovic C'è anche Cuono In campo Per Brescia Che si addormenta Però difensivamente Sulla rimessa E regala Due punti De Mantas Benjus Sono usciti Rivers E Della Valle Vantaggio Sassari Stiamo per entrare Nell'ultimo minuto Di questo primo quarto Attacca Ivanovic Tante mani Quelle di Renfro Però Commettono fallo 35 Primo Mollo Trimbo 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 Di San Trimbo Di San Trimbo Di San Di San Trimbo Di San Trimbo Di San Consegnato Di Bornella Conu Comun Copiato Con Benjus Attacca Mobius Si chiude La difesa Bornella Palla Che rimbalza Un paio di volte Sul ferro Alla fine Entra Meno uno Jason Bornell 10 secondi L'attacco Per Sassari Uno contro uno Forbes Contro Mobius Gli tira in testa Brian Forbes Daum Manda via Conu Copiato contro Sokowoski Ecco era il pick and roll L'attacca Sottomobio L'ha visto Servito Fa saltare Cappelletti Sbaglia poi Dopo il passo di incrocio Mobio E commette fallo E non è proprio Un gran fallo questo Perché saranno Due tiri liberi Per La Dinamo Ha fatto tutto Molto bene Mobio Blocco Roll Mare libero A centro Aria La palla Con i tempi giusti Di Chris Dau Fa saltare L'aiuto di Cappelletti Poi Ha mancato Un po' di tucco Su quel passo e tiro Poi Benjus Dentro Veronesi Ci sono due tiri liberi Per Michael Sokowoski Tiratore Da 80% In stagione Fino a questo momento Segna il primo Il 24 Buono anche il secondo Il 9 Secondi per attaccare La falla viene messa subito Nelle mani di Dau Che va dall'altra parte Ince blocco Palla per Bernal Che subisce fallo Renfro E per lì chiede Previsione All'instant replay Qualche Staranomotive Un fallo è di Giovanni Veronesi Due tiri liberi Regalati anche qui Difensivamente Da Sassari Alla Germani Siamo così Restituiscono Sassari restituisce Il favore Per il fallo Mobio Uno su due Di Bernal Rimbalzo Cappelletti Sbaglia La preghiera Da oltre centrocampo Termina il primo quarto Alla palla leonessa Con il vantaggio Della Dinamo Sassari I minuti Dove è dovuto trovare Un po' la quadra Del suo gioco La squadra di Markovic È riuscita Nella seconda metà Del primo quarto Da giustare Difensivamente Soprattutto le situazioni Tra i due lunghi Con Indur e Bilan Le combinazioni Indur e Bilan Che hanno portato Tanti punti a Brescia Poi in attacco È entrato in partita Brian Fox Qui Va da Veronesi Attacca La stoppata Di Bernal Corre Cuonu Ferma tutto Cappelletti Qui la stoppata Con Bernal Che però Tocca la retina Di questo Sta parlando Coach Markovic Con gli arbitri Questa è un'interferenza Canestro Dell'autore Besniec Della Dinamo Provato a spiegare Le sue ragioni Salgono Cuonu E Indur Fallo sul tentativo Di penetrazione Di Ivanovic Blocco cieco Di Cuonu Indur Si ripropone La stessa situazione Si apre questa volta Cuonu Perché la difesa Si schiaccia Sondur E allora Tripla Aperta Per il numero 25 Ed eccolo La prima tripla Di questa serata E la furia E quella Di David Cuonu Si muove Forbes Che sale a ricevere Mette i piedi a posto Ma preferisce Attaccare Pick and roll Con Renfro Tira in testa Cuonu Segna E c'è anche Il fallo Ancora Sempre Brian Forbes Che si è preso Sulle spalle L'attacco Della Dinamo E' rientrato Bibbins E' uscito Cappelletti Per Sassari L'aggiuntivo Di Forbes Va a bersaglio 12 punti Per Brian Forbes Bibbins Passa alto Sul blocco Di Dur Poi sbraccia Imanovic Alla fine Va su Una sorta Di secondo tempo Si lamenta Il 18 Di un contatto Non c'è secondo Gli arbitri Si va dall'altra parte Sono solo i due punti Sempre due blocchi Va a salire E liberare Forbes In angolo Da Udom Il suo ingresso In questa partita Bibbins Cambia accettato Da Dur Allora si balla Scarico Per Udom Sbaglio La tripla Le mani veloci Di Bibbins Rischia Barnell Alla fine Supera La metà campo Maurice Dur Ivanovic Passa Fallo Di Beronesi Blocco di Barnell Cambio accettato Da Beronesi Sul cambio di mano Poi di Ivanovic Arriva Il contatto Continua Girandola di cambi Per Coach Markovic Fuori Proprio Beronesi E ritorna Al suo posto Sokowalski Buono Pick roll Con Ndur Sta lontano Renfro Alla fine Rimazzo offensivo Di Dao Non ci pensa Super niente Beronesi Che prova Cortissimo Dao lascia Per Ndur Finta Va su C'è il fallo C'è il canestro E ci sarà Anche il Tiro libero Suplementare Per Maurice Ndur Pioggia di Applausi Per L'inizio Di partita Del Senegalese Fuori Renfro Torna Halilovic Per la Dinamo Da una parte Ndur Che roll Con Halilovic Cambia C'è Ivanovic Contro il numero 7 Si va proprio lì Si aggiusta la difesa Rimane però libero Sokowalski Ma il tiro Non è buono Cappelletti Parla con Markovic C'è Chiedi il challenge Chiedi il challenge Coach accetta E si va a rivedere La tripla di Sokowalski È buona o meno È stata tirata Prima Del suono Dei 24 Già a vedere Questa immagine Sembra Di nome Assolutamente Review molto semplice Per Pavero Lanzarini E dunque Challenge utilizzato Per il coach Nel Markovic Piccola altissimo Tra Ivanovic E Ndur Vede il taglio di Daun Un po' Dare quella palla schiacciata Allora si Ribalta al lato Per David Kwon Uno contro uno Contro Fobbs La velocità di Kwon Il tocco però Su quel Le iap è mancato Allora Errore Dall'altra parte Udomi in angolo Muove la palla La Dinamo Ci pensa Bibbins Infine va da Alilovic Fronte a Canestro Che bellissimo Bellissimo Movimento Di Alilovic Primi due Nella partita Miralem Alilovic Grande stile Brunel Contro Fobbs Vuole attaccare Lo può attaccare Uno contro uno Spalle a Canestro Alt tiro corto Di Jason Barnelli In questo Primo tempo Bibbins Per Alilovic Che la controlla Di nuovo Si rinnova il duello Si rinnova il duello Con Dur Errore Rimbalzo Difensivo Ivano Ivanovic Hobs Attacca a Cono Alilovic Torna da lui Va da Bibbins Palleggio Il resto Passaggio nella tasca Per il sette Chiude la difesa Troppo tardi però E fallo Sul tiro Di Miralem Alilovic Ottima lettura Come al solito Di Justin Bibbins Che in questo inizio di campionato Un po' facendo fatica al tiro Per quanto riguarda gli assist Uno dei migliori Del nostro campionato Fuori Cuonu Edau Per la Germani Sono rientrati Amedeo Della Valle E Rivers Dall'altra parte Mentre Alilovic Sbaglia Il primo Di due Tiri liberi A sua disposizione E' tornato In campo E' mantas Benji Zero su due Per Alilovic Della Valle Bella Palla di Della Valle Per Jason Burnell Che appoggia a canestro Poi rischia Forbes E c'è la pressione Del numero 8 Bibbins Ma c'è Fallo in attacco Di Forbes Molto bravo Ancora Ivanovic A leggere Difensivamente La situazione La pressione Della Valle Sfondamento Sacrosanto La parla di Ivanovic Della Valle Per Bernella In precedenza Minuti Anche per Trucchetti Ha segnato I primi punti In Serie A La scorsa giornata Contro Napoli Ed ora Trova davanti Un cliente esperto Come Della Valle Qui Trova subito A difendere forte Un po' troppo Erano due liberi Per Capitano Della Germania Mentre Poeta Ne approfitta Per parlare Con Ivanovic Bernal E Rivers Segnano Il frattempo Il primo Della Valle Fa due su due Mette cinque punti A dividere le due squadre 31 a 26 Entrati nella seconda metà Del secondo quarto Bibbins Nuovo pick and roll Con Alilovic Si prende la tripla E la segna Justin Bibbins Battezzato Dalla difesa Ovviamente La scelta In quel caso È da così lontano Con Bibbins Si passa dietro Però arriva la prima tripla Di serata Anche per la Dinamo Ivanovic Ha finto di prendere il blocco Poi tira in testa A Benjus L'imbalzo difensivo Bibbins Lascia per Alilovic Che schiaccia Ed è subito Nuova parità Quota 31 Cinque punti In un amen Praticamente per il banco di Sardegna Il Dur Fino in fondo Errore Prende il rimbalzo E alla fine L'ultimo A toccare È proprio Il numero nove Andiamo a rivedere In mani alte Di Sokowoski Poi a Lilovic Anche con un po' Di esperienza In quella lotta Doppia Per Brescia Che ha fatto tanto male Nel primo quarto A Sassari Ovvero sia Ndur e Bilan Vedremo in questo secondo Qui Proprio il nome Ad aiutare E si chiude Miro Bilan Sul passaggio D'uscita Bibins Che ha amministrato La rimesa Si va a riprendere Il pallone Benjus Da tre punti Segna La prima La prima tripa Della sua serata E Mantas Benjus Del nuovo Vantaggio Dinamo Partita che va Fiammate Tra un lato Ad un altro Rivers Attacca Di voglia Di forza Segna Sol del contatto Due più uno In arrivo Per Rivers Che ha la possibilità Subito di fare pari Qui salta Dopo La pinta Sull'arresto di potenza Sokowoski Dunque Tiro libero Aggiuntivo Per Rivers Segna Il libero Rivers Pallo Poi Un'uscita Proprio di Sokowoski Di Demetra Rivers E dunque Due 5 Nessa Lato Ancora Esaurito Il bonus A Germani Sul secondo Pallo Di questo Quarto Bibbins Palleggia Arresto Tiro Ancora Da tre punti Primo ferro Chiude il possesso Bilan Attacca Della valle Durra Mette Palla per terra Ivanovic Dall'angolo Segna La tripla E si lamenta Di un contatto Guardate Ivanovic Time out Nel frattempo Per la Dinamo Sassari Sokowoski Sokowoski Benjus E Fobs Per La Dinamo Dall'altra parte Ivanovic Bilan Della valle Dur E Rivers Questi i dieci Sul parquet L'anticipo Di Rivers Per non far ricevere A Fobs Allora Si vada Sokowoski Però sbaglia La tripla Rivers Va da Bilan In ufficio Il numero due Alilovic Va giù Non c'è fallo Ricerca ancora La combinazione Con Durra Questa volta Il fallo E C'è Ed è della difesa Fallo E Proprio di Miralem Alilovic Il primo Della sua partita Qui Cerca Lo sfondamento Poi ancora Il taglio Dal lato debole Taglio flash Di Endur E' chiusa bene Questa volta La difesa Della Dinamo La palla poi è tornata Nelle mani di Bilan Che ha subito Il fallo Di Alilovic Sono due tiri liberi Endur Intanto Ne approfitta Per un rapido Colloquio Con Gli armi Trip Lungo Il primo tiro libero Di Mirabilan Il silenzio Del Palla Leonezza Leonezza Di Ivanovic Su Alessandro Cappelletti Che si palleggia Sul piede O meglio Sul ginocchio Altra Grande difesa Di Ivanovic Abbiamo detto Uno dei migliori Per quanto riguarda Le palle rubate In questo campionato Anzi il migliore Al momento Tecnicamente È a quota zero Ma c'è uno sfondamento E questa Palla che È stata persa Da Cappelletti Attacca Bilan Si appoggia Tabellone Le mani Educatissime Di Mirabilan Che chiede Tra virgolette Scusa Per i due Liberi sbagliati In precedenza Quattro punti Si muove E riceve Sokowoski La tripla Poi di Fobbs Errore Cappelletti Salta sopra Ivanovic Non riesce Però salvare Il possesso La scelta Difensiva Della Valle Lì Di fare un passo Verso Sokowoski Per negare Una facile triple In uscita dai blocchi Il passaggio Di nuovo Di ritorno A Fobbs La comoda Ma sbagliata Esce In questo momento Miguel Sokowoski Torna in campo Bimbin S'abbassa Il quintetto Per questi ultimi 90 secondi Markovic Piccarol Bilan Della Valle Si apre Rivers Fobbs Molto lontano Fobbs È troppo lontano Tripla Di Demetri Rivers Attacca Qui Fobbs In angolo Da Benjus Il close out Dindur A negare Una facile tripla Benjus Che infatti Sbaglia Che calma Della Valle Ecco che si rinnova Il piccarol Come prima Si allarga Rivers Della Valle Però sceglie Il suo lato Fuori per Bilan Da tre punti Lunga la sua tripla Ndur Il tap in Di Maurice Ndur Che segna Subisce Fallo Entra in lunetta Con L'aggiuntivo La tripla Di Miro Bilan Non è una cosa Usuale Ma non è sicuramente Non è più Perlomeno Rispetto ai primissimi Anni in Serie A Un giocatore Da battezzare Proprio così facilmente Chiaro che la difesa Deve fare delle scelte Questa è una scelta Che si può prendere Quella di lasciarti Lare Miro Bilan Però poi Si presuppone Un taglia fuori Che in questo caso Non c'è stato E ha regalato Non due Ma Visto che ha segnato Il tiro libero Tre punti A Maurice Ndur 45-34 Fuga Della Germani In questo Finale Di primo tempo Piede Di Ivanovic Va vicino La palla rubata Sul no look Di Cappelletti Tempato Un look di Cappelletti Della Dinamo Oltre tre minuti Senza segnare Più tre La Germania Si ritrova A più nuove Fuori Della valle Sul posto è entrato Finale del secondo quarto 45-45 Germani Brescia 34-34 Dinamo Banco di Sardegna Sassari Questo il punteggio Renfro Renfro esce Renfro esce Ivanovic In angolo Rivers A ricezione Bassa Tiro complicato E sbagliato Ondurra La stoppata Di Renfro Un po' morbido Ondurra Alla fine Però Molto bravo Nicola Ivanovic Tenere la palla In questa metà campo Tirando Dosso Nelle gambe Di un difensore Guardiando la rimessa Dal fondo Si muove Della valle Si mette a posto Si appoggia a tabellone I primi due Dal campo Della partita Diamante della valle Si aggiungono I quattro liberi Realizzati Per notare Di sei punti Nella partita Nel numero otto Forbes Schoforte Di Bilan Aiuto Recupero Non c'è vantaggio Per Renfro E allora si Ribalta al lato Attacca Cappelletti Qui c'è Vantaggio Si chiude Il pick and roll Due Di Nate Renfro Della valle Carolla con Bilan Non c'è il cambio Renfro rimane a metà strada Ora il passaggio per Bilan L'errore Della valle Se la ritrova In mano Corto La c'è Il tap in Di Miro Bilan Che parla Con Direttori di gara Ovviamente Lì sotto Come detto Di modi per fermare Miro Bilan E' quello di cercare Qualche contatto Di quel tipo Spuggendo all'occhio Degli arbitri Forbes Ci pensa Non tira Renfro Da più fastidio Che un aiuto Infatti alla fine Della valle Li tocca al pallone Da dietro Situazione di 3 contro 2 Con Cappelletti Che recupera Nessuno Si accoppia Con Amedeo Della valle Palleggio Arresto Tripla Timeout Nenad Markovic MVP del campionato Nel 21-22 Insomma La versione La quarta versione Di Medio della valle In questa stagione Sempre più Lidere Capitano Dei Lombardi Si muove Sokowoski Che riceve Sale Forbes Sinistro Destro Il ferro Sputa Di fatto La sua tripla Un po' di sfortuna Per Brian Forbes 2 su 13 Da 3 punti Per la Dinamo Che fatica A trovare ritmo Cerca l'alto basso Hondur Renfro lotta Con Milan Alla fine Arriva il fallo Proprio del Numero 35 Che tira giù Milan Da una parte Di oltre due metri Ma 94 kg Di Renfro Dall'altra Di 2,13 di Milan Con 120 kg Siamo che c'è una bella differenza Tra i due Ivanovic Da 3 punti Errore Rimbalzo Di Sokowoski Che spinge la semi Transizione Si riaccoppia Brescia E allora Piccheroy con Renfro Sta sul suo uomo Bilan Alla fine Il tiro di Sokowoski È sbagliato Si lotta Rimbalza L'ultima a toccare Elex Treviso E Napoli Errore nel secondo tempo Tocca reverse Tocca Effettivamente Il giocatore In maglia bianca Nella valle Ora c'è il piccheroy Con Bilan Renfro Forse tocca Il tiro di Della valle Ma poi c'è Milan Che rimane da solo Non si aggiusta La difesa 2 di Bilan E se nel primo tempo A far male La difesa di Sassari Tra delle combinazioni Bilan-Dur Ora è entrato in partita Anche a livello realizzativo Della valle Dunque Che con queste situazioni Fa male Di nuovo Come prima Come per la tripla Di Renfro Anche per il Jumper di Alessandro Cappelletti E il ferro A dire di no Della valle Ci pensa Poi non tira Preferisce andare da Ivanovic Che fa un tiro Abbastanza complicato 3 contro 2 Allora reverse Ferma tutto Commette fallo Fuori Renfro Torna Alilovic Per Banco di Sardegna Attacca Cappelletti Rimancato con Bilan Alilovic Però è indietro Non si costruisce niente Si rinnova il pick and roll Attacca lo zero Che scarica fuori in emergenza Sokowoski in angolo Benjus Fa saltare Si prende la triple errore Ed è Cappelletti A toglierla dalle mani Di Alilovic E lanciare il contropiede Di reverse Ritorna E zero A prendersi cura Della valle Però è altissimo Con Bilan Rimane solo Non si chiude la difesa Fa saltare Miro Bilan Va in ufficio Due Per Miro Bilan Chiama raccolta Il suo pubblico Peppe Poeta Perché adesso sono Venti I punti a dividere Le due squadre 9 a 0 Di parziale Per la Germani Solo due I punti realizzati Da Sassari In questo quarto Sokowoski Palla complicata Persa Corre Ivanovic Della valle Da quasi centrocampo Sbaglia Nel momento Della partita Tiro Con assoluto senso Per Amedeo Della valle Cappelletti Per interrompere Il digiuno offensivo Dopo 3 minuti E 42 Torna Segnare la Dinamo Tripla Di Alessandro Cappelletti Vanovic E Bibins Palleggio Attacca Che lascia il campo Tornare al pallone Segna Areoplanino Risultato Di Jason Bernal Che se la ride Perché Trova i due punti Che possono Probabilmente Diventare tre E rivediamo E rivediamo la giocata Di Bernal Fallo di Mattia Udov Libero Libero aggiuntivo Per Bernal Che chiude Gioco Si ritorno Si ritorno Si ritorna dall'undici Che finca al tiro Bernal Non ci casca Rimane lì Di piedi Sotto c'è il vantaggio Di Udov Contra Della valle Che chiude Atenaglia Mattia Udov E spende saggiamente Anche il fallo Fuori rivers Dentro David Cuonu Per la Germani Rimessa a fondo Si muove Sokowoski Che riceve Spazio Ma non tira Bibbins Lui Si e segna Ancora da tre punti Justin Bibbins Lui che entrava In questa partita Con il 18% Da tre punti Fino a questo In questo momento In stagione Siete due In questa partita Dove Sassare Comunque sta faticando A trovare il ritmo Da oltre l'arco Ndur Fino in fondo E la sua serata Maurice Ndur Sokowoski Ritorna da Bibbins Che schiaccia per terra Per Alejovic Spalla complicata Possesso Udom Complicatissimo Complicatissimo Però questa sera Andur Entra tutto Perché poi Quando prendi fiducia È anche così Ovviamente Fallo nel frattempo Di Della Valle Che si avvia Verso la panchina A prendere i complimenti Da coach E torna Ancola Ivanovic Si appoggia al vetro E ne fa altri due Non ferma la partita Markovic Quello che i suoi Trovino una soluzione 22-11 di Parzani Ndur E adesso E adesso il passivo diventa Molto pesante Anche perché in questo terzo quarto Brescia ha messo a posto Le percentuali da tre punti Fallo di Dau Che arriva dal lato debole Non ci sono Due punti Saranno però due tiri liberi Per Alilovic Poi in ritardo Chris Dau E qui Due grandi protagonisti Della partita E del terzo quarto In particolare Ndur E Della Valle Mentre Alilovic L'aiutino del ferro Che non è stato Molto clemente con Sassari In questo terzo quarto Manda bersaglio Il tiro libero E Markovic Vedete sullo sfondo Concentrato soprattutto Sul tabellone Più che sui liberi Del suo lungo Probabilmente Che lui Stia cercando una spiegazione Che cosa è successo A Sassari In questo terzo quarto Più 20 Germani 70 a 50 Penultimo possesso Vero similmente Di questo terzo quarto Attacca Cuonu Che batte Udome per poco Non porta a casa Un altro gioco Da tre punti Cambio difensivo La velocità Di David Cuonu Poi È diversa Da quella Nell'extrinto Viaggio E lunetta Per il 25 E Brescia Che poi Dovrà difendere Sassari Può andare Verosimilmente Fino in fondo Mancano 21 secondi A 7 A fine di questo Terzo quarto Dominato Sotto Ogni punto Di vista Dalla squadra Di Peppe Poeta Si muove Fogs Come al solito Che esce dal blocco Di Alejovic E riceve Sotto dal numero 7 Si chiude la difesa Alejovic Vira sul fondo Fuori per Bibins Cinque secondi Quattro Odom si alza Da tre punti Primoferro Chiude Tutto Josef Movio E la sirena Manda Le squadre In panchina Per l'ultimo Miniposo 72 Germani Brescia 50 Terzo quarto Che si è appena concluso Il 27 a 16 Di parziale Che si è andato poi a sommare Al 28 a 13 Nel Secondo quarto Come che L'ha detto Della Valle Nell'intervista Nella flash A metà partita Abbiamo concesso Tanto nel primo quarto Vediamo Ci siamo un po' sistemati In difesa Dobbiamo continuare Su Questa strada Direi che Lo stanno ampiamente facendo Qui Il quarto quarto Si apre Con il gioco a due Tra Cappelletti E Renfro Che segna Meno 20 Adesso Un po' come nella partita Contro Napoli In casa Vinta Da Sassari Bisogna anche stare attenti Diciamo così A evitare di rendere Il passivo Ancora più pesante Qui c'è un fallo Da parte proprio Di Cappelletti Campo complicato Quello della Germania di Brescia Per Sassari Un po' per tutti In Serie A Ovviamente Soprattutto per Sassari Perché La scorsa stagione Qui Al palo a Leonessa Finì 110 a 65 Per Brescia 45 punti Dividere le due squadre Un maggior scarto Nei 26 precedenti Tra Brescia E Sassari Benjus Da tre punti Manda a bersaglio E Poeta Nonostante 17 punti Dividere le due squadre Ferma subito La partita Perché non vuole Cali di intensità E usa Il primo time out Del secondo tempo Mancano 9.22 Alla fine Del quarto quarto Come detto 26 precedenti Tra queste due squadre La Dinamo Che è avanti 16 a 10 Però un campo Particolarmente Complicato Per In Sardi Oggi Sicuramente Non si arriverà Verosimilmente Quei 45 punti Dell'anno scorso Di scarto È davvero Il ritmo I tiri Dalla lunghissima distanza Dao Ivanovic Buono Bilan E Bernal Per Poeta Contro gli stessi 5 Invece Markovic Bilan Riceva molto Contro Renfro Qui si chiude la difesa Nessuno Però Vede il taglio Di Jason Bernal Segna Bernal Ma sempre A creare Problemi C'è Miro Bilan La stazza La visione E le mani Di Miro Bilan Bernal Ringrazia E arriva a quota 16 Bimbi Spalleggio Insistito Rimane solo Sokowoski Che sbaglia Poi preciso Oggi Il 24 Cuono Piccarol Con Bernal Che si apre Palla complicata In angolo Da Ivanovic Che arriva Passaggio in salto Per Dao Proprio un gran attacco Della Germani Alla fine Esce Tra virgolite Di prigione Dao Perché la palla La tocca Nate Renfro Con il piede E dunque Cronometro Che ritorna A 14 Ivanovic A palopo pigra Renfro Anticipa Bilan Bimbi Salza Per Nate Renfro Bilan Attacca Fin dal passaggio Porcameriere Mano destra Errore Lotta Benjus C'è fallo Di Bernal Agomista Se ce n'è uno Jason Barnelli Sotto Per far sentire La sua voce Va a cercare Il pallone Da per vinta Nessuna situazione E qui L'Aleup Precedente Chris Dao È tornato È tornato molto bene Sul suo uomo Poi però Alla fine Ha avuto ragione Cappelletti Benjus Bernal Da Bilan 35 secondi Finita Il 60 Quono attacca Al centro Mani Di Renfro Chiede la palla Due In realtà È fallo Del Attivo di Tucson Arizona Quarto fallo Della parola Di Nate Renfro Che ha fatto Comprensibilmente Tanta fatica A marcare Fino a questo momento Miro Bilan Ovviamente Sono 20 chili Anche di più Tra i due Quindi Segnato il primo Miro Bilan Il secondo Ed è a quota 76 Brescia Ideale 99 Di punti Realizzati Fino a questo momento In campionato A partita Difficilmente Verrà Eguagliato Tripla Di Justin Bibbins Di voglia Di carattere 14 Per Sassari Lo stag Per Della Valle Che sale A ricevere Si chiude Il triangolo Alla fine La palla arriva In qualche modo In le mani di Bernel Nero sotto Da Bilan Si schiaccia Sokowoski E allora Lascia la tripla A David Cuonu Non ha mai perdonato Brescia In queste situazioni Subisce fallo Qui Sokowoski E ovviamente Gran parte Della parere Passata anche Da queste situazioni Verosia Mentre vediamo Il fallo Di Cuonu Anche Barnela Mettere le mani Adosso A Sokowoski Verosia Gli aiuti difensivi A parte Della Dinamo Dobbina Le spalle A canestro Scarichi Inizialmente Sempre con i tempi Giustissimi Da parte Di uno degli ex Di questa partita Punto di Milan E poi I suoi compagni Hanno fatto il resto Della sia Non sbagliando Le penetrazioni Sui tagli Oppure eventualmente La tripla Come in questo caso Poi c'è la stoppata Di Renfro La penetrazione Un po' pigra Di Barnela Capelletti Da tre Segna Alessandro Capelletti 7,9 6,5 6 minuti Ancora da giocare Un po' tolto Le mani Dal manubrio La Germani Poi alla fine La palla va da Milan Che rallenta Il tempo Del terzo tempo Bisogna segnare E allora Si va da Milan Che comunque Tra assist E punti Realizzati Qualcosa Porta sempre a casa Qui due Per Miro Milan Renfro Schiaccia per terra Sul backdoor Di Sokowoski Sokowoski Miro 11 Dinamo A 5 minuti Dalla fine Praticamente Di fatto Il tacco precedente A Brescia Si era fermata Solamente Per vedere Il contatto Bibins Della valle Qui Rivers Rischia Alla fine Mette nelle mani Di Biro In emergenza Bernal Contro Sokowoski Qui Di spalla Il 24 Un'occhiattaccia Anche Di Trison Bernal All'anversario Fuori Renfro Fuori I cappelletti Dentro Brian Fobs E Alilovic Qui la palla rubata Da Sokowoski Prende spazio Palleggia Il resto Tripla E Bilan Avete visto Anche a lamentarsi Giustamente con i compagni Un po' Avere gli occhi Dietro la testa Ha tante Qualità Bilan Quella no Di avere gli occhi Dietro la testa Quell'aiuto Difensivo Assolutamente da chiamare Fallo di Alilovic Secondo fallo E quarto di squadra Per il Banco di Sardegna Dunque dal prossimo Saranno liberi Per La Germania Della Valle Riccio La palleggia Il resto Primo ferro Attenzione Perché adesso Sarà la possibilità Di tornare Sotto la doppia Cifra di svantaggio E lo fa Con Justin Bibbins Meno nove Vediamo Sassari Quattro minuti E tre Da giocare Era più venti La Germania Fallo in attacco Qui fischiato A Nicola Ivanovic Allarga il gomito Destro Arriva Sul volto Di Justin Bibbins Che fa vedere Il Contatto Dunque Palla persa Di Ivanovic La terza Della sua partita Bibbins R.Fox Attacca Batte Della Valle In angolo Benjus Importante Da tre Primo ferro Chiude il possesso Rivers L'aiuto di Alilovic Non è falloso Secondo gli arbitri Alla fine Antisportivo Di Rivers Su Foles Rumoreggia Il pubblico Del Palanonessa Su questa scelta Di fischiare Antisportivo Demetri Rivers Più che altro Sono Fischi E Un po' di paura Perché Sassari Assolutamente Lì Come ho detto Brescia Ha smesso di giocare Forse un po' troppo presto Non l'ha fatto La Dinamo Si va a rivedere L'entità Del contatto Va a rivedere Ovviamente Questo challenge Da coach Peppe Poeta 81-72 4 minuti alla fine La review anche in questo caso Molto rapida Decisione confermata Resta il fallo Antisportivo E questa può essere Una di quelle situazioni Che ribaltano Completamente la partita E meno male L'andamento di una partita Ed essere ora molto brava Brescia Stare Qui mentalmente Poeta Che le spiegazioni Lanzarini Che ci sono Liberi per Fox Sarà possesso Banco di Sardegna E i fischi del pala Il miglior realizzatore della serie A Fino a questo momento Bibins Lui è di legge Le operazioni Pick and roll Con Alilovic Forbes Attacca Batte della van L'aiuto di Bilan Si appoggia al vetro Brian Forbes Che arriva a 19 81 A 76 Con che velocità Può cambiare una partita Fallo Fischiato Alla difesa Se ha Dalilovic O Bibins Numero 7 Dunque Miralem Dalilovic Terzo fallo Con Bibins Che Ha toccendo Che Nikola Ivanovic Si è lasciato cadere Un po' troppo facilmente Tecnico Di Lanzarini Dalilovic Non ha gradito A Markovic E non A Dalilovic Dunque Mentre Alilovic Stava parlando Con Lanzarini Forse è arrivata Anche qualche parola Di Markovic E ora Bulleri Va a parlare Con il suo allenatore Canestro Nel libero Del tecnico Di Amedia Della Valle Ora ci sono I tiri liberi Del fallo Sassari Ha esaurito Il bonus Sbaglia Il primo Lascia Fallo Secondo gli arbitri Rivers Si tira su Bibins Mani sul pallone Palla A2 Non c'è fallo Come chiesto Da Poete Dal pubblico Di casa Per la regola Del possesso alternato Non c'è La palla a2 Per la regola Del possesso alternato Si Rimane con il possesso Germani Qui Rivers Ci mette un po' troppo Bibins Bravissima Alzarsi subito E arrivare da dietro E mettere le mani Sul pallone Il numero 23 Come se in campo Affidata Della valle Rischiato Bibins Per un fallo Palla ferma Qui ancora Sokowoski Ora Tanti contatti È salito Ovviamente Il tono della parola Perché Sassari Giustamente Ora più che mai Ci crede Bibins Tira un po' La maglia di Ivanovic Che alla fine Schiaccia per terra Per Bilan Con estrema difficoltà Arrivano comunque I due punti Per la Germani Con la calma La pazienza Di Nicola Ivanovic Vediamo che cosa Ha disegnato Markovic Che si rimette Nel taschino Nella gioca Il pennarello La partita Che sembrava Andata Il gioco della verità Per l'approccio Soprattutto che ha avuto La Dinamo Nel terzo quarto Invece ora Stiamo vivendo La gara Completamente opposta Perché la Dinamo Ha la palla Per tornare a meno 5 E eventualmente Anche a meno 4 Ed era meno 20 Attacca Sokowoski Batte Della Valle Arriva tardi L'aiuto di Indur Meno 5 Dinamo Ivanovic Pronto Piccarol Con Dur Il blocco Cerca di Della Valle Alla fine Non si costruisce niente E un'altra palla persa Per Brescia Fa una cosa importantissima Ma Rivers Due punti Schiacciati Di Jason Barnell L'urlo liberatorio Del 10 Ma Rivers Ha fatto una cosa Fondamentale Rubando quel pallone A Sokowoski Mettendo Mettendo in mano La precedenza di Jason Barnell 10 Sokowoski Ha aggiustato la mera Ha aggiustato la mera Il 24 Ovviamente Non ha mai smesso Di provare A cercare Con insistenza Sua specialità Il tiro da 3 punti Poi il ritardo Il close out Di Ivanovic 4 punti 10 Per Sokowoski Nel solo quarto quarto 17 in totale Time out Si prende tutto il tempo A sua disposizione Nelad Markovic Cuonu Indur Ivanovic Bilan E Della Valle In campo Per Brescia Dall'altra parte Bibins Sokowoski Torna Renfro Con 4 falli Benjus E ovviamente Brian Forbes Super la metà Campo Ivanovic Che gioca Ovviamente anche Con il cronometro Fallo di Bibins E questa Non è Una grande scelta Da parte Del playmaker Numero 1 Nel tentativo Di mettere pressione Ovviamente adesso È cominciata anche Come così La partita a scacchi Tra virgolette Un quintetto Per l'attacco Un quintetto Per la difesa Avete visto Sono usciti Per la Germani Della Valle E Bilan Che sono già pronti Per ritornare in campo Sbaglia il primo Ivanovic E' rientrato Alilovic Invece per Sassari Entrati Rivers e Bernal Per La Germani Per Il possesso Difensivo Più 5 90-85 55 Anzi 50 secondi Alla sirena Benjus Ultimi 10 secondi Di 24 Grande difesa Di Brescia Alilovic In emergenza Deve inventare Fuori il pallone Per Sokowoski Complicatissimo Ferro Sale Bernal Che però non controlla Il pallone Ma nei capelli Per Poeta Sul volto Per Jason Bernal Si rimane in questa metà campo Ha fatto una grandissima difesa La Germani La carica Del Palaleonessa E' messa a fondo La stazione di Box Si muove Forbes A bloccare Ad Alilovic Non si costruisce niente Vuole la palla Forbes E' schiazzata per terra Per Benjus Che attacca Si butta l'indietro Difficilissimo Errore Tap out Di Alilovic Benjus Da tre punti Errore Nel momento decisivo Sbaglia le triple La Dinamo Sassari Fallo immediato Ai danni Di Nicola Ivanovic Che riandrà in lunetta Reduce dall'1 su 2 Nel possesso precedente Si chiude un'azione Lunghissima Oltre 30 secondi Per La Dinamo Ma Ora Seguiamo I liberi Di Ivanovic Vede lo striscione Del traguardo Peppe Poeta Palla si arrampica Sul ferro Del palo La Nessa E va dentro Per il primo 9-1 8-5 2 su 2 Di Nicola Ivanovic Time out In campo Non lascia Ovviamente Nulla di intentato Perché Deva Si è affidata A Sokowoski Ricorda Di distanza Lanzarini Taglio di Bibins Sale Fobs Che poi Blocca per Benjus Mette in visione Alla fine Ultimo ricevitore Alilovic Fallo Tiri liberi Per evitare Alcum Faccio Le tiro Da tre punti Per il primo Per il Germani Trove Per il terreno Per il terreno Quono Nascito Quono E tornato Della valle Per la Germani Liberi Per Sokowoski A 19 Secondi E cinque Dalla fine Segna il primo Segna il primo Sokowoski Segna Con l'aiuto del ferro Anche il secondo Della valle La pressione difensiva Fallo Alla fine Di Fobs E tiri liberi Se il cliente è peggiore Per Sassari Che luneta Ci va Amedeo della valle Segna il primo Amedeo della valle 9-3-8-7 6 punti Ora E sempre meno Per Sassari Che non ha più time out Due su due Esce dal campo Il numero 8 Torna David Cuonu Si gioca fino all'ultimo Alla pressione Di Ivanovic Subito pronto Al cambio del cambio Al cambio della valle In caso in cui Non fosse bisogno Riceve Sokowoski Supera la metà campo Ultimi 9 secondi Aspetta Piccarol di Alilovic Lui però Ci ha messo tanto Sassari Fobs Seistet da tre punti All'ultimo secondo Sbaglia Alla fine Sudando Soffrendo Tantissimo Ma la porta a casa La Germani Brescia Che vince 94-87 Contro La Dinamo Sassari Una stoica Dinamo Sassari Tutti i punti di vista Che ha avuto La capacità E la forza Di rientrare Dal meno 20 Arrivando fino Meno 5 22-37 In favore del Banco di Sardegna Nell'ultimo quarto Ma alla fine Ha avuto la meglio La squadra di coach Peppe Poeta You've got dreams Might even be something big Imagine what you could do With the right solutions Secured against evolving threats And set up to make the right decisions faster At AccraSure We help protect and grow Everything you've worked so hard to build We are the brightest people Using the best of technology We are an extraordinary advantage for you We are AccraSure Grazie per la visione!